Il suo giumentaro, mister Felice, immagino, di questo bel epilogo di questa sfida, la finale provinciale, risultato mai in discussione. Al di là di tutto, un bellissimo percorso. Sì, è stato un grande percorso, come dici tu, è iniziato un pochettino di mesi fa. Noi l'abbiamo portato a termine nei migliori dei modi, grazie ai ragazzi, tutto quello che hanno fatto. Insomma, è stata veramente una grandissima, una grandissima partita. Oggi non c'è stato veramente in discussione, nessun risultato. Un complimento per loro, soprattutto, noi che li seguiamo, che li diciamo qualche cosa. Insomma, però i modi del loro. Ripeto, la partita è in discussione, è sbloccata però solo alla mezz'ora, ma era evidente comunque una padronanza del campo da parte dei ragazzi del Nardò. un attimino più avanti fisicamente rispetto agli avversari, si è visto. Eh sì, diciamo che l'idea di rischio, insomma, l'abbiamo veramente strameritata. Perché i ragazzi hanno lavorato sempre, fino alla fine. L'ultimo giorno, c'è stato martedì, che abbiamo allenato, tutte 22-23, insomma, tutto allo stesso ritmo. Potevano giocare tutti, senza nessun dubbio. Potevamo sbloccarla prima, e l'hanno sbloccata, però, insomma, sono contento per questo. Queste urla sono il simbolo di una determinazione con il quale si sono impegnati, ci credevano parecchio. Sì, ci vedevano, perché ve lo dicevano anche loro stessi. Io, sai, un pochettino prima gli dicevo di stare tranquilli, insomma, di non stare molto sul pezzo. Invece poi, alla fine, i ragazzi hanno mantenuto la promessa che hanno fatto. In questo percorso di crescita qualcuno può aspirare a fare il salto nella Juniores. C'è un lavoro, insomma, di base che si vede? Sì, in parte ci sono già dei ragazzi che sono stati con la Juniores. Come l'autore del Gollo Cavallo. Già qualcuno, insomma. Poi, con darsi che l'anno prossimo, insomma, ci sarà qualche altro, sicuramente. Spero per loro, insomma, perché poi alla fine il merito è loro. Quanto, un po' di merito se lo deve prendere, mister? Quello di stare di sopra, ecco, questa cosa qua di parlare, di dirgli quelle che le cose, insomma, che l'esperienza mia che ho avuto, alla fine, insomma, è andata bene. Quanta crescita ha avuto questo gruppo dall'inizio ad oggi? Beh, chi l'ha visto all'inizio, insomma, sa quello che c'era prima e quello che hanno trovato adesso. Bene, mister, godiamoci di questa vittoria e tanti auguri ancora. Grazie, grazie.